Uno spot della Regione Abruzzo per sensibilizzare l'opinione pubblica sul tema della violenza sulle donne. Sì, credo che per attraversare il fenomeno della violenza di genere mi agire innanzitutto al punto di vista della prevenzione attraverso un percorso ipoculturale che vada a sensibilizzare la comunità ad abbandonare certi stereotipi e abbracci al contrario la cultura del rispetto. Per questo è stato ideato questo spot a costo zero, grazie alla collaborazione dell'Ufficio Vari Opportunità della Regione Abruzzo, dell'Ufficio Stampa, di alcuni dipendenti regionali che si sono resi protagonisti nel vero senso della parola e grazie al sostegno del Coricon potremo trasmettere questo spot su tutte le televisioni locali a costo zero.